La guerra porta solo distruzione, un dramma che ha investito la Siria, l'Iraq, Gerusalemme e la Cisjordania. Inaugurando i lavori del Sinodo, Papa Francesco ha chiesto di pregare per il Medio Oriente, rivolgendo allo stesso tempo un appello alla comunità internazionale. Le parti interessate, ha detto il Pontefice, siano aiutate ad allargare i propri orizzonti al di là dei loro interessi immediati e a usare gli strumenti del diritto internazionale e della diplomazia per risolvere i conflitti in corso. Siamo dolorosamente colpiti e seguiamo con profonda preoccupazione quanto sta avvenendo in Siria, in Iraq, a Gerusalemme e in Cisjordania, dove assistiamo a un'escalation della violenza che coinvolge civili innocenti e continua ad alimentare una crisi umanitaria di enormi proporzioni. La guerra porta a distruzione e moltiplica le sofferenze delle popolazioni. Speranza e progresso vengono solo da scelte di pace.